Gigi a tutti ragazzi, sono Alien e ancora una volta bentornati su Destiny. Oggi vi mostro come completare le tre taglie ricercati di Petra, quelle da 100 reputazione Ira della Regina. Analizzeremo i saccheggiatori dei lupi, i vandali spezzaregine e i predatori ululanti. In descrizione trovate subito il minuto per ciascuno scontro, così nel caso in cui vogliate arrivare subito al dunque, giusto per vedere velocemente la zona, potrete farlo. Se invece siete nuovi su Destiny vi consiglio di guardarvi le intere sezioni una ad una. Partiamo quindi dai saccheggiatori dei lupi che troveremo sulla luna nella Sala della Saggezza. Per trovarli dunque è necessario avviare la modalità pattuglia ed una volta sbarcati sulla luna dovrete seguire questo percorso che conoscerete benissimo nel caso in cui siate dei giocatori abituali di Destiny, ne sono sicuro, ma io a scanso di equivoci vi lascio tutto il percorso ugualmente. Proseguite dunque per il centro della stanza e non appena vedete questa maliarda dovrete cercare di girare a sinistra ed avanzare verso la zona proprio in fondo dove troverete i tre caduti di grado maggiore quindi con energia gialla pronti lì ad aspettarvi. Non troverete solo loro ma anche altri caduti sempre di livello 28. Fate fuori i tre saccheggiatori per portarvi a casa la prima taglia facile facile. Notate che la prima volta vi sbloccherà anche una carta Grimorio. Passiamo invece alla seconda taglia Vandali spezzaregine che troveremo su Venere nei tizioni. Ora per arrivare ai tizioni chiaramente dovrete ritornare in modalità pattuglia ma questa volta su Venere e fare praticamente la stessa strada che si fa durante il calanotte del prelato Arconte ovvero il corso d'inverno. Ve lo ricordate? Anche qui vi lascio il percorso completo anche se sono sicuro che sia ben chiaro a tutti ma anche qui a scanso di equivoci comunque vi lascio il percorso completo. Una volta arrivati nella zona della grande nave dei caduti dovrete quindi entrarci dentro seguendo la solita strada ed è lì che troverete i tre Vandali. È possibile trovarne sia al piano inferiore che al piano superiore. Fate direttamente piazza pulita ma sarà abbastanza facile individuarli viste le loro abilità di diventare invisibili. Infine abbiamo i predatori urulanti che troveremo nella sala dei sussurri sempre su Venere. Ancora una volta torniamo in modalità pattuglia esattamente come prima e vi basterà seguire questo percorso che passerà appunto attraverso l'Accademia. Anche questo è un percorso a voi molto caro e per intenderci lo stesso che si effettua nella missione di storia all'archivio. Niente di più niente di meno. Solo che una volta arrivati nella stanza a due piani nel mio caso ho trovato i due predatori urulanti direttamente al piano di sopra. Da notare anche l'attivazione delle mine laser segno che state facendo bene. Eliminate pure i due predatori per beccarvi l'ultima taglia. Attenzione cos'è quello? Pegno dell'identità. Beh vi dico una cosa c'è gente che è riuscita a droppare anche delle chiavi del tesoro completando in maniera fortuita le taglie di petra. Mi limito a riportarvi quanto mi è stato detto non ho verificato con mano ma come vedete sembra che ci sia una possibilità remota di droppare qualcosa dalle taglie di petra. Tornando a noi che cos'è il pegno dell'identità? Molto semplicemente una moneta di scambio tramite la quale poter acquistare in questo caso degli shaders direttamente da Varix il venditore caduto nell'atollo. Tuttavia prima di poter acquistare gli shaders bisognerà essere di grado 3 con il casato del giudizio quindi semplicemente dovrò conservarmi il pegno. Ci sono evidentemente tre tipi di pegni. Identità che serve per acquistare gli shaders, del volo che serve per acquistare le navi e del giudizio che serve per acquistare gli accessori. Ho visto droppare questi pegni anche all'interno delle casse delle prigioni degli anziani comunque. Bene è tutto amici miei grazie come al solito per essere stati in mia compagnia Alien vi saluta. Love and peace!